Musica Nome Paolo Luca Cognome Nespoli Parmitano Professione Astronauta Astronauta Quando e perché Hai deciso Di fare l'astronauta? Ragazzino Guardando gli astronauti Sulla luna Ho deciso Che mi sarebbe piaciuto Fare le derapate lunari Da che ho memoria? E perché Vedendo I primi astronauti Nelle missioni shuttle Ho detto Quello deve essere Un lavoro bello Voglio fare così Chi è oggi Un astronauta? Nell'immaginario comune È un esploratore Nella vita quotidiana Oggi Siamo L'idraulici Gli elettricisti Spaziali Un astronauta È la persona Più specializzata E meno specializzata Al mondo Deve essere qualcuno Che ha Conoscenze tecniche Straordinarie Che si acquisiscono Facendo i vari corsi Nelle agenzie spaziali È anche una persona Che deve essere in grado Di fare un po' tutto Magari senza eccellere Ma deve essere Un cuoco Un tecnico Un scienziato Un veterinario A breve E anche Un idraulico All'occasione Qual è la tua missione ideale? Andare su Marte Mettere i piedi su Marte Devi partire Per una lunga missione spaziale E ti ha concesso Un solo oggetto personale Cosa porti con te? Mi piacerebbe dire niente Perché vorrei Non essere attaccato a niente La mia fede La cosa in cui sei più bravo? Non lo so Non lo so Non lo so veramente Non lo so Il tuo più grande difetto? Quello di non riuscire A non dire la verità In modo chiaro Sono Permaloso Una cosa a cui hai dovuto rinunciare Per fare l'astronauta? Niente Ho dovuto rinunciare Al volo sui aerei Un film che hai visto Due volte 2001 Di Sieno allo spazio Posso dire un film Che ho visto centinaia di volte Apollo 13 Quando ero piccolo The Highlander E così via Consigliaci un libro Sono tanti che mi piacciono E non riesco a tirarne fuori uno così Cent'anni di solitudine Di Gabriel Garzia Marquez La felicità è? Riuscire a fare A realizzare un proprio sogno La felicità è conoscersi Musica rock Pop Classica O jazz? Qualsiasi Basta che sia buona Jazz Tre cose importanti Nella tua vita? Sentirsi Libero Realizzare Quello che uno vuole I propri sogni E Essere utile Le mie figlie La mia famiglia E il mio lavoro Se fossi nato nel 1700 Che professione avresti fatto? Probabilmente mi sarebbe piaciuto inventare il mestiere dell'ingegnere Il marinaio La società del futuro sarà? Spero più attenta all'ambiente e ai bisogni di tutti Migliore Lo spazio è? Un posto impossibile dove si possono fare delle cose fuori dal mondo Il futuro Una colonia umana su Marte è possibile secondo te? È possibile se ci cominciamo a lavorare seriamente ma ci vorranno 15 anni Tutto quel che è pensabile è possibile Partiresti per Marte per una missione senza ritorno? Penso che i vecchi esploratori, i colliveri, non partivano col biglietto d'andata e ritorno E se uno vuole esplorare deve accettare anche il fatto di non poter tornare E mi piace il pensare di essere esploratore Non necessariamente voglio andare in un posto dove non voglio tornare Quindi c'è un po' di dicotomia Però insomma Mi viene da rispondere di sì con qualche brivido Se potessi portare con me tutto ciò che a me è caro, perché no? Salutatevi Ciao Luca In bocca al lupo